Quando si parla di Socrate si pensa a Socrate, si pensa sempre in particolar modo a Platone, ma in verità si pensa in realtà appunto poco al Socrate pragmatico inteso come legato al tema dei costi e dei benefici. In realtà in questo senso Platone ha disincentivato questo tipo di pensiero perché basti pensare anche al tema della Repubblica, cosa che fa Platone? Tripartisce l'anima, quindi l'anima d'oro, l'anima d'argento, l'anima di bronzo, dall'anima d'oro appunto ai filosofi, la parte preponderante in questa anima appunto è quella della filosofia e questa è propria del filosofo in chi invece propende di più l'anima d'argento e guerriero e poi ci sono i produttori. C'è appunto una diversificazione, quindi cosa che si pensa? I filosofi in Platone devono governare e quindi devono effettivamente guidare la città, poi i guerrieri invece devono difendere la città perché il loro predomini di più la virtù del coraggio, quella per l'appunto che porta appunto i stessi guerrieri a difendere la città dalle minacce esterne e anche a mantenere l'ordine interno e poi i produttori che attenzione sono legati anche al tema dell'economia inteso anche come lavoro dei campi e come produzione eccetera. Quello che appunto però attenzione in Platone non torna è che in questo senso Socrate è distaccato dal tema dell'economia, cioè in verità si nota tantissimo questo fatto, in Platone è difficile, anzi non si trova in fin dei conti un Socrate che è legato a una filosofia dell'economia. Infatti in particolar modo a differenza per esempio di Aristotele ma soprattutto di Senofonte Socrate non collega la filosofia all'economia, tutt'al più nello stesso dialogo anche del Fedro compare un Socrate slegato dall'economia, cioè il Socrate del Fedro è un Socrate in questo senso per esempio che ha bisogno appunto di dialogare all'interno della piazza, dialogare all'interno della città e invece ha dispetto invece di Fedro che ama per esempio andare fuori dalla città. Cos'è che c'è fuori dalla città, fuori dalle mura? Beh i campi, ci sono i campi dove appunto si coltiva, c'è attività agricola e quindi c'è anche il tema dell'economia. E tra l'altro attenzione anche lo stesso Socrate comunque già nell'apologia comunque si nota un Socrate che è poco legato anche al tema dell'economia ma soprattutto poi all'interno della Repubblica perché il filosofo per eccellenza deve essere poi collegato a Socrate ma non può essere nemmeno produttore. Quindi in tal senso attenzione la ricerca come ricerca della domanda di senso deve comprendere poco il tema dell'economia inteso nel senso greco classico come non solo i costi intesi come casa ma anche come agricoltura, come entrate e costi intesi come agricoltura. Quello che invece si nota in modo totalmente diverso nel Socrate di Senofonte è che in realtà è come se lo stesso Senofonte anticipi Friedrich von Hayek. Ora in realtà forse è un azzardo dirlo ma perché? Allora perché Hayek dice attenzione al tema dell'incertezza cioè noi dobbiamo comprendere che l'incertezza filosofica riguarda anche l'economia. Ecco in realtà è un fatto che Senofonte collega la filosofia all'economia e attenzione il Socrate di Senofonte dunque fa cos'è che fa? Collega l'economia alla filosofia. Cioè dice io ho bisogno del dialogo con gli altri per esempio con Isomaco perché? Perché mi permette di capacitarmi di che cos'è l'economia cioè il mio sapere di non sapere deve riguardare in fin dei conti l'attività pratica. Perché? Perché se non faccio attività pratica o meglio non conosco quell'attività pratica tale per cui io potrei conoscere meglio me stesso anche attraverso l'attività pratica dell'economia come il lavoro nei campi e non potrei atteggiarmi alla filosofia. E infatti non è un caso che nell'economico di Senofonte il termine filosofia sia collegato al tema dell'economia inteso anche come entrate e uscite costi uso anche come dire dei costi dei benefici all'interno della vita dei campi. Questo è fantastico perché in verità il Socrate di Senofonte è legato strettamente al tema dell'attuazione della vita dei campi collegata alla vita dei campi. Tra l'altro se ci pensiamo cos'è che fa questo tipo di Socrate? Che il sapere di non sapere non è solo legato a un certo tipo di dialogo che punta a una sapienza e una saggezza ma punta in verità anche al buon uso dei costi e dei benefici delle entrate e delle uscite così che in fin dei conti anche la realtà politica della polis possa supportarsi. Questo è importante perché ci dice una cosa importante cioè ci dice che se per Platone per esempio il filosofo non ha tanto quelle caratteristiche del produttore se Platone questo ci dice in Senofonte il filosofo parte da avere le caratteristiche del produttore cioè non puoi essere filosofo se non sei in qual certo modo compreso cioè se non comprendi le dinamiche che stanno alla base della produzione se dunque tu non comprendi la base appunto per esempio del costo di opportunità non comprendi la base per esempio di come si fa un certo tipo di prodotto e come si si atteggia a un certo tipo di produzione tu non potrai essere filosofo anche perché non potrai riuscire ad andare incontro alle tue esigenze personali quindi in questo senso il Socrate di Senofonte è molto slegato dal Socrate di Platone ci mostra in realtà un Socrate con una faccia totalmente diversa un Socrate molto più pragmatico in questo senso che comprende attenzione anche quell'altra faccia della medaglia opposta allo stesso Rousseau cosa che dice Rousseau a un certo punto nella modernità? Dice beh l'Emilio deve stare nel bosco perché la società è un problema il Socrate di Senofonte invece cosa che dice? Cosa che dice Senofonte nell'economico? è proprio attraverso la vita dei campi in fin dei conti che l'uomo può capire le sue esigenze dunque può capire ciò che gli serve e dunque può capire il rapporto con l'altro e la cooperazione sociale dunque anche in qual certo modo la competenza che soggiace a questo incontro e per esempio a ciò che gli serve per fare una buona attività agricola e quindi all'economia anche alla vita della buona casa questo è interessantissimo ragazzi perché ci dà una linea di diversificazione dai Socrate diversi di Platone che in verità hanno poco a che fare davvero in questo senso con appunto il senso dell'economia se non per poche parti che si possono anche magari tentare di collegare ma in verità il Socrate di Senofonte in questo senso è molto più collegato è molto più fondato a questo tipo di approccio che appunto io dico si può legare anche a Friedrich von Hayek perché perché l'apporto che Hayek per esempio dà nella sua filosofia dell'incertezza concerne in fin dei conti anche l'ambito pragmatico cioè il fatto che il Socrate di Senofonte si accorge appunto che per far sì che il campo vada bene e c'è bisogno anche per esempio di una qual certa divisione del lavoro perché appunto tutti gli elementi che servono per il campo non si possono fare da soli serve dunque una buona direzione in fin dei conti dell'attività agricola e quindi una buona organizzazione e quindi in certo qual modo anche comprendere il tema della competenza e dunque anche dell'esigenza di una qual certa competenza ecco perché in questo senso Socrate vuole sapere vuole sapere per l'attività pratica perché gli serve perché la filosofia si rifà al tema dell'esigenza pratica ciao